Musica Musica Grazie a tutti. 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 Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. Non ne sono mai condamnate a 20 anni, non sono le bologno. Non hanno 16 anni il Lembretto che si��uano un vicino la Passagine della Quabinè. Perché si avessi la tua vacazione è stata in tutte le freddo. Far la scatatia passi alla sera passata al 61 anni, a continuato con 81 anni. Ma questa è una visione che siro la Chabinè lo conoscente a 63 anni. Vangelo mi fare le 18 anni. Vangelo! Vangelo ! Ma cosa accadeva? Ma cosa facerà la visione? Si è una visione, si è la visione, è finita la visione. In il 61 anni, in il 81 anni. Ma è la visione prophetic, ma è la visione di 63 anni che è ilusi stato fatto. Mi hai raggiunto! Mi hai raggiunto! Ma cosa happen? Quo farà si è stato fatto? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non e non è una cosa? Non è una cosa? E' un'economia E' un'economia la mia famiglia perché gli e angliari sono le loro con, ma in Corea se non ci sono le loro con non ci sono le loro quali il suo che si è una cosa che in Corea Ma ci sono le loro? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Culla non ведь Dami è sempre piccolo, ma anche la menina finde del sito. Vorremmo perciera anche la rivolte in individuale. Lo telle まcia, però è ancora una risca. 超iamo la sua cosa, quindi è un fatto che esistza della sua fürsigni. Non c'va capire la potenza? Non ci hanno bisogno di informazioni, l'encouragement ... Ci ha questo lavoro! Per il mio Musicolo il mio Derniere mera. È già 3 mesi passi... L'Unione della mia esperienza, feli e la squadra... Si sono i perdi, Volevo dire che era da condividere. e già malo vai ambo so kodi a presidenza ansambiente nasionali alo bisognito perde ti sekeni mocawe ko existenze su te lozalaki nakasavu dozi momutu dozi musee dozi mwala pukwa utiko tika mwala pukwa uyo mwala tika liko lina bakongole be kongo nege felix alingi yango esengeli yo nangatopate la ye esengeli yo nangatopate la ye esengeli yo nangatopate la ye esengeli yo nangatopate la felix soroza kinoa balovarana mokao ke kinoa kotika kinoa komaravon kondite kinoa a dirijakate esengeli yo nangatopate la moca ne bat pa me felix sazak kinoa sonki felix a esuwe sege kine esuwe esengeli yo nangatopate la he esuwe sege kinoa e esuuwe agizengeli yo nangatopate la moca sazak kinoa sende me kochama nangatopate la moca avanakonta battle formation to elia esengeli yo nangatopate la moca sazak kinoa nana persiba inokato soki bon manu moutuazya konde informe bi formasha komtite Siamo qua il che è? Quindi ci sono i quali che ritorno Ci sono fatte le fronte Quando ci parlano di voi c'è la verità Ci sono fatte le fronte Quando ci sfruta le fronte l'informazione Nessun'ci è solo Ci sono a testi Non c'è un'amore, non c'è un'amore. Non c'è un'amore, non c'è un'amore. Non c'è un'amore, non c'è un'amore. Non c'è un'amore. Non c'è un'amore, non c'è un'amore. 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 Non c'è unamore. 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 Mais c'est de ce problème. Nous nous sommes allés en tête au président de la républicain. Il nous a arrivé. Nous sommes allés au président de la républicain. Il nous a passé plusieurs sénataires. Il nous a passé plusieurs sénataires ici en Congo. Il nous a passé quatre sénataires. Quatre sénataires par après ce que nous avons commis perché non si sazire io ma couta l'anayè a interpellato l'IGF Abesho le reto! Abesho le reto! Abesho le reto! Lo bia kanga ma chi? Idebesu viva! Non lo batto ton lo batte! Non lo fomolato ton fomolato! Non lo bina lo batto non lo batte! Tu repassas le lontè che andè! Abesho le reto! Abesho le reto! A zala ki interpele nan anè! Lobby! A zala ki interpele nan anè! Le tou puissan sholè! Bo baza gara bama mi balè! Na kardina lo amouti mamabe! Oye lina ga ba para kongole te! Oyo! Ba lini komeza la kimya te! Abesho le reto! Abesho le reto! Mbaza na komplicite! Naka tumbi nan kabila Kontre Tiseke Baza na komplicite! Oyo! Baza luka mabe eya na kongo! Na lo bibye! Kazembe Rekanambe! Suria no! Voi, voi tommeno i kattumbi, Il suo l'euro. Abba, Il suo il denunque il suo soldato Il suo soldato di Kinabalda. Sano. Dvelle vizioni o queste cose, Corso, come loro erano l'euro. Il suo soldato è importante. In questa cosa, Cosa, i quei in un ufele? Noi. Cosa, ... ... ... ... ... ... ... Non per la parte della 나가, perchè avveno che erano le loro non sono le loro. E'azia la base, il corpo e il corpo, il corpo, la corpo, il corpo. E'azia la complicità il corpo che le corpo quando lo hanno accaduto. E'azia dire che ciò che basta il nostro canale, ciò che abbiamo parlato di queste informazioni. Ma cosa montra gente? Non c'è parte della informazione, non c'è parte della informazione. giornalisti a un ligno al tosia l'oro comissante con information papa roger donne molle l'altro l'oroata dizia o ben formazione zb le Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.